Ciao avventurieri, siete pronti per un'epica avventura nel mondo brutale di Conan Exile? Fancom ha appena rilasciato un'esplosione di emozioni con l'aggiornamento Age of War capitolo 2. E credeteci, non perdetevelo. In questo nuovo e vincente capitolo, Conan Exile vi mette al comando come mai prima d'ora. Decidete voi quando e quanto intensa sarà la purificazione. Immaginate l'emozione di difendere le vostre basi e i vostri tesori dall'onda dopo onda di invasori stigiani, finché non emerge la temibile mano della guerra. Sconfiggetela e i premi diventano ancora più lettanti. È un'esperienza completamente nuova all'interno di Conan Exile, sfruttando le fondamenta altamente personalizzabili del gioco per creare battaglie epiche e infinitivamente ripetibili. Ma non è tutto amici, Fancom ha rivoluzionato un intero sistema di bottino. Ora i drop dei nemici riflettono davvero la loro natura, l'ambiente e l'equipaggiamento. Quindi avventuratevi al di fuori della vostra fortezza, staccheggiate i campi e tuffatevi nelle segrete in cerca del bottino più raro. Dai novizi che muovono i primi passi, ai veterani che dominano le terre esiliate, tutti sentiranno l'impatto di queste funzionalità che cambiano il gioco. E se vi piace vestire il vostro personaggio e fare una dichiarazione nelle terre esiliate, il capitolo 2 è quello che fa per voi. Tuffatevi nel pass battaglia e nel negozio dell'oggettistica del bazar, dove troverete un tesoro di cosmetici a tema Age of War e Stigia. Dai maestosi set di costruzioni a forma piramide e le eleganti skin per armi e armatori stigiane, nuove emote, adorabili animali domestici, pittori di guerra e molto altro. Potrete persino cambiare il panorama delle terre esiliate con le vostre creazioni. Ora la parte migliore, Age of War capitolo 2, è disponibile proprio ora su PC, PS4, Xbox XS, Xbox One e Xbox Game Pass. E la ciliegina sulla torta, per un periodo limitato, potete acquistare Conan Exile e l'Isola di Sipta e tutti i DLC con uno sconto incredibile del 60% su tutte le piattaforme. Non perdete questa epica avventura. Fatemi sapere qui sotto nei commenti di cosa ne pensate di questo grande aggiornamento. Grazie per essere stati con me oggi e ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per ulteriori epiche novità di Conan Exile. Fino alla prossima, restate leggendari! Grazie. 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 Grazie.